Ottimi risultati per i comuni di Sanza, Sassano e Padula nel Vallo di Diano, tra gli 11 comuni ricicloni della provincia di Salerno premiati a Roma nel corso della manifestazione conclusiva dello storico concorso di lega ambiente per conoscere lo stato della raccolta differenziata in Italia. Tra i comuni del Vallo di Diano, al di sotto dei 5.000 abitanti, il primo è Sanza con il 53,5% di procapite secco residuo e il 78% di raccolta differenziata. All'undicesimo posto della classifica regionale, Sanza è seguita da Sassano al diciottesimo posto con il 64,7% di procapite secco residuo. Ancora per i comuni sotto i 5.000 abitanti in classifica ci sono anche Sicignano degli Alburni al terzo posto, Petina al nono con il 43,3% di procapite secco residuo e Caselle in Pittari alla posizione numero 16 della classifica generale con una percentuale del 62,6%. Per quanto riguarda invece i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, per il Vallo di Diano spicca Padula al quinto posto della classifica con il 66,6% di procapite secco residuo. Al quarto posto troviamo Roccanaspide con il 62,5% di procapite residuo. La 27esima edizione di Comuni Ricicloni si è svolta a conclusione della due giorni della settima edizione di Ecoforum, la conferenza nazionale sull'economia circolare promossa da Lega Ambiente, Nuova Ecologia e Chioto Club. Comuni Ricicloni ogni anno premia le comunità locali, amministratori e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, raccolte differenziate e avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.